Bianco, blu, gol Quanno sta cercando di crescere e oggi abbiamo fatto vedere che dei passi avanti li stiamo facendo contro una squadra che soprattutto nel secondo tempo ci ha messo molto in difficoltà. Cosa ne darete? Però l'1-0 sta quasi stretto al Brescia. Ma sì, è chiaro che come opportunità di gioco per fare gol ne abbiamo avute alcune. È chiaro che non possiamo pensare che in una partita di Champions se hai tre palle gol, quattro palle gol riesci a concretizzarle tutte. Chiaro che l'ideale sarebbe stato magari il 2-0 perché abbiamo preso il palo, però credo che dobbiamo già essere soddisfatti perché se a inizio partita mi avessero detto che non avremmo subito gol e non avremmo perso ma addirittura abbiamo vinto, avrei fatto i salti di gioia. L'importante era soprattutto non prendere reti in casa, la difesa a tre ha dato ottime conferme, una squadra che soprattutto nel primo tempo ha espresso un ottimo gioco tra l'altro. Sì, era importante non prendere gol. Poi adesso al di là della difesa a tre che poi insomma a volte a tre, a volte a quattro, poi diventa cinque, dipende. Finché diciamo al primo tempo loro ci hanno più che altro aspettato, non ci hanno attaccato e quindi abbiamo avuto un po' più noi il pallino del gioco. Nel secondo tempo ci hanno aggredito di più, ci sono alzate e noi ci siamo un po' troppo abbassate anche perché fisicamente siamo calate e abbiamo sofferto. Però devo dire che l'aspetto positivo è che le ragazze nel momento della sofferenza hanno tenuto. Insomma siamo riusciti a portare a casa questo risultato che ci fa andare là con un atteggiamento un po' più tranquillo ma relativamente. Perché sappiamo che questo non è un vantaggio perché andare a giocare in Inghilterra contro le squadre inglesi il fattore campo è micidiale. Insomma quindi è come se io fossimo un 50-50 forse un po' più sbilanciato verso di loro. Ecco finito praticamente solo il primo tempo della sfida possiamo dire. Sì, sì, sì. Il primo tempo c'è il secondo tempo. Quindi noi ci auguriamo là di non fare il secondo tempo che abbiamo fatto qua. Grazie, complimenti. Grazie a tutti.